Che dire, è stata una scoperta perché ho conosciuto un board senza volere, ho visto una conferenza stampa e della conferenza stampa ho capito che c'era tanto. E quindi dopo quella conferenza ho visto tre date, purtroppo non potrò vedere la quarta perché lavoro, però veramente mi ha dato tanti spunti, soprattutto l'idea che hanno. C'è quella di mettere insieme, di creare una squadra, di creare un equipaggio, quindi questa metafora della vela è veramente straordinaria e insomma rubrò qualche idea.